Adesso opereranno lavoratrici e lavoratori dei comparti pubblici, quindi scuola, quindi sanità, quindi enti locali, enti statali, trasporti, poste. Mancano poche ore allo sciopero generale contro la manovra di bilancio del governo indetto da CGL e Will per venerdì 17 novembre. Dopo il braccio di ferro, il muro contro muro tra i sindacati e il vicepremier, oltre che il ministro Salvini, è scattata la precettazione per i trasporti. Lo stop per i mezzi pubblici, infatti, sarà limitato da otto a quattro ore, quindi dalle nove alle tredici. Alvia, quindi, la prima delle cinque giornate di mobilitazione nazionale, con scioperi in manifestazioni organizzate. Scioperiamo per modificare una legge di bilancio che non dà risposte al tema del caro vita, che ha falcidiato salari, stipendi e pensioni, non modifica nulla dell'attuale situazione pensionistica, non investe sulla sanità, non stanzia le risorse necessarie per il rinnovo dei contratti pubblici. Ma non solo, una nuova legge di bilancio che, secondo CGL e Will, non guarda soprattutto al futuro dei lavoratori. E non interviene per la gestione delle transizioni digitali green ed energetiche, che sono fondamentali per dare un futuro all'industria del nostro Paese.